bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti nel video ovviamente parleremo di nuovo dell'evento che oramai è sulla bocca di tutti attenzione ragazzi a non cadere nelle informazioni fake mi raccomando prestate molta attenzione a quello che leggete parleremo anche delle nuove skin nfl che stanno per arrivare e di tanti altri argomenti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che non può non essere ovviamente il galactus abbiamo l'immagine ragazzi di ciò che si sta vedendo proprio in questo momento in game se quando siete il lobby o quando siete in partita puntate il vostro sguardo verso le coordinate 272 vedete che lentamente le corna del galactus stanno emergendo dalle acque la cosa veramente assurda è che come vedete in questa immagine la punta del corno è praticamente fuori dall'acqua ed è alta come la montagna di fianco quindi stiamo parlando di un qualcosa davvero di micidiale un'immagine veramente molto più nitida la possiamo vedere da questa angolazione e con questi colori e guardate ragazzi che è davvero pazzesco ancora io non so ma credo che sia molto molto più grande del robot che abbiamo visto in season 10 in season 9 tanta tanta roba ragazzi ancora altre inquadrature che ci fanno capire quanto quanto sia il rapporto della dimensione ed ecco in realtà quello che è presente sotto la mappa il corpo del galactus ancora non c'è però la testa si vi ricordo che potevate anche andare a vederla qualche giorno fa nella modalità replay e credo che lentamente emergerà tutta tra l'altro attenzione perché si aggiorna anche giorno per giorno la tavola nella prelobby della mappa quindi l'immagine che state vedendo in questo momento come vedete contrassegnato nel quadrato rosso il galactus appunto che in maniera olografica è molto più visibile quindi ragazzi passano i giorni il tempo stringe e piano piano vengono comunque aggiornate sempre queste cose man mano praticamente che passano le ore e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva finalmente un'immagine anche qua erroneamente trovata da un ragazzo di come sarà la ltm dedicata all'evento vi ricordo nuovamente evento il 2 il martedì 1 dicembre alle ore 22 come sempre mi raccomando entrate almeno due ore prima su fortnite proprio fisicamente nel gioco e dalle 9 e mezza sarà possibile invece accedere alla ltm dedicata questa come state vedendo è proprio l'anteprima ed era chiaro fosse quella the viewer of words il divoratore di mondi è proprio il nome dell'evento e secondo me ragazzi c'è poco da scherzare siamo già passati al nuovo argomento perché sono state è stata trovata un'altra cosa molto curiosa che potrebbe essere allacciata con le immagini che vi ho fatto vedere anche ieri quelle pubblicate direttamente sul twitter di fortnite dove si vedevano gli autobus della battaglia raffrontati agli asteroidi che ci sono stati nell'evento della season x casualmente ragazzi ci sono 7 autobus nel magazzino delle stark industries questo potrebbe anche non essere una coincidenza perché potrebbe voler dire il ritorno dei 7 probabile anche perché questo è un mio pensiero quindi non è detto che andrà così secondo me non riusciranno gli avengers a contrastare il galactus e potrebbe essere necessario l'intervento dei 7 magari non lo sappiamo vi ricordo che comunque nel trailer di due stagioni fa si vedevano di nuovo le informazioni vi ricordate sull'albero sempre dei 7 quindi ancora un chiaro riferimento a quello che potrebbe capitare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo anche che sarà possibile ottenere in game ovviamente acquistandola con i V-Bucks la skin di galactus per averlo poi sempre con sé nell'armadietto e ovviamente mantenere un ricordo di quello che sarà l'evento più grande della storia di fortnite il modello in 3d è quello che vi sto facendo vedere in questo momento non comodissima di certo da usare però appunto un bel ricordo da non lasciarsi scappare tra l'altro vi ricordate che ieri vi ho fatto vedere che tutte le cose dedicate all'evento avranno un background diverso ed entreranno in una nuova serie di outfit quindi mi raccomando non perdetevele e andiamo avanti perché arriva un twitter ufficiale da parte della NFL che dice starting november 25 in fortnite new greedy wrong gang outfits will be available for purchase vuol dire ragazzi che arrivano 3 nuove skin della NFL che non vanno a sovrapporsi con quelle che già abbiamo dei giocatori appunto di rugby queste 3 nuove skin forse faranno parte del nuovo pack oppure di un 3 insieme greedy wrong gang outfits potrebbe voler dire anche che si compra una cosa e ce ne abbiamo 3 come vedete le vediamo in un'immagine un pochettino più chiara sono 3 che non abbiamo ovviamente blu e giallo rosso e bianco e bianco e rosso probabilmente saranno tutte e 3 di variante epica quindi aspettiamoci che o costano 1500 V-Bucks Luna o ci fanno il bundle che secondo me a 2008 te lo mandano fuori 25 novembre staremo a vedere anche questo e arriviamo prima di salutarci ad un altro argomento perché arriva una stringa sotto di me la state vedendo modding support will be coming to fortnite molto probabilmente ci sarà la possibilità non si sa ancora come non si sa ancora quando non si sa ancora perché di fare dei mod del modding su fortnite quindi di cambiare proprio le carte in tavola su fortnite ovviamente non si parla di battaglia reale in pubblica ma credo che sia tutto una questione dedicata magari al party royal o comunque alla modalità creativa staremo ad approfondirlo quando si sapranno di più mentre questa è una novità molto interessante perché la Bangra Boogie Cup inizierà il 6 dicembre quindi se per caso non avete ancora ottenuto con il Oneplus le motte Bangra Boogie e lo spray potrete competere nella nuova coppa appunto per riuscire a sbloccarli e ad averli ovviamente non vi preoccupate perché avremo modo avrò modo di spiegarvi bene tutto e di dirvi di nuovo in un video news quando ci sarà l'evento insomma ragazzi io anche per oggi le news ve le ho dette mamma mia non so cosa dirvi perché l'hype sta veramente salendo però posso ringraziarvi per avere guardato questo video news mi raccomando non vi dimenticate di schiacciare il like ragazzi facciamolo salire mandiamolo nei consigliati se volete lasciate un commentino noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch ciao 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 Grazie per la visione!